Tu pensa se intorno c'è sempre avuto un punto di riferimento, un faro che te ricordava dove dovevi andato. Potevi star buio, nella tempesta, potevi star lo sbando totale. Ma lo sapevi che comunque quel faro stava là. E te fidavi così tanto di quel faro che ci ha costruito tutto intorno, tutto il villaggio, tutta la vita tua, dando per scontato che sarebbe stato là sempre. E poi un giorno, all'improvviso... Quindi verrete al Consiglio Municipale straordinario della settimana prossima, se si terrà? Sì, se ci sarà bisogno ci saremo anche noi. E te rimani al buio in mezzo alle macerie. Grazie a tutti.